Prima di chiudere la seduta, se me lo permettete, un minuto lo rubo. È stata un'esperienza meravigliosa per quanto mi riguarda, ho conosciuto persone molto preparate. Devo ringraziare chiaramente anche io gli uffici e tutte le persone che fanno parte dello staff dell'Assemblea Capitolina perché con noi hanno condiviso mattine, pomeriggi, sere, notti. Siamo stati insieme a lavorare e siamo stati veramente, per quanto riguarda il lavoro, compatti. Ho imparato tantissimo nei ruoli, nel mio percorso personale è stato molto travagliato però ho avuto modo di apprendere da ognuno di voi, consiglieri, tutti, che c'è preparazione comunque in quest'Aula che chiaramente ognuno ha espresso il proprio pensiero in base al proprio credo, al proprio sentire e su questo non c'è assolutamente niente di male, spesso si è sfociati anche in scontri abbastanza accesi. Però insomma ci tengo a ringraziarvi tutti, anche per il rispetto che avete avuto nei miei confronti anche quando ero nuova in alcuni ruoli istituzionali ma penso che ce la siamo cavata tutti egregiamente quindi ringrazio l'Assemblea Capitolina tutta, tutti i consiglieri di questa consigliatura e quindi insomma esperienza davvero formativa sotto il livello culturale, come si diceva prima e soprattutto personale. Quindi grazie a tutti e chiaramente chi farà parte del nuovo Consiglio Comunale so sicuramente che avrà a mente che è un servizio che riguarda diciamo quello che dobbiamo produrre a Roma e non sicuramente per mire personali. Quindi vi ringrazio sentitamente e la seduta è chiusa.